Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Non lo so, non lo so. Sì, sì, passi, passi Sì, passi, passi Bro, noi vogliamo in 15 o'clock, non in 13 o'clock In F5 si può fare la scena di scena In F5 si può fare la scena? Scena! 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 Scenaicans, non era No era Scena che ora ChiusurIE Salito Gen Jill Scena буде I got jumped scared by a meowch! I don't even like him! What is this? I was surprised by my hair! Where is it? More cute than my hair! It's like my hair! It's like my hair! Quassò Quassò Guarda come si è qui Il giro è morto Oh, andiamo, i morti! Oh, morti! Oh, morti! Ehhh! Guardate! 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 Non è l'escalante! La mia colonna! 9-11 è bene! Cosa cosa sta succedendo? Cosa cosa sta succedendo? Cosa cosa è questa? Cosa cosa è questa? Ma stupende voleva? Che farò lo sposto? Certo. Clici clafore. Claire da cés my слéght? Ho? Ho? Ho ? Ho cercano? hotels. Ceкще? Non mi sembrava che non mi sembrava. Non mi sembrava che non mi sembrava. Ma il nome è 12 o 3. Ah! E? Non mi sembrava. Non mi sembrava che sia. E? Noi! Noi! Oh! Noi! 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 Surely non! Non mi sembrava. ワードチョイスがちょっと嫌なんだけど! Noi! Oh, come here! Iargiote! Come here! Ma! Come here! C'est pas un po' con le stature. C'est sympa con le ptite statue C'est per questo che aveva bisogno di tipo di slate C'est Richard Ah uoi Heeey Il chateau di Salbite È un po' di me Oh, è un po' di me Oh, è un po' di me Oh, è questo è questo è questo è un po' di me Guardate, un po' di me Dessere un po' di me Sì You okay Vi! Z hombres Chrysing! U opened in his temple What is happening What is happening? What Iss happening? What the hell! What the hell! Z. Whatever! Can you keep talking o no come to place blocks? left click or right click? right click ok ok so drrrr 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 no drrrr dr 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 Sì. Sì, questo è veramente Tetsu? Sì, è 4, diciamo? Sì, non è 4. Sì, non è così. Come va! ieni a verducere Quindi du Andre falle! F至 dischi questo è questo? sì, sì, sì è tutto diverso un po' non è niente ma non è niente ma non è niente guarda 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 guarda